Mr. Magliano, quest'oggi un 3 a 0 importante del tuo cuneo con la CBS, è stata una battaglia soprattutto nel secondo tempo. Io, Mr. ti chiedo, come prima cosa, visto che sono stati tanti gli episodi, ti chiedo in primis una cosa sulla risposta che hai avuto dai tuoi ragazzi dopo le ultime partite qualche risultato che è venuto a mancare oggi. Penso che a livello di atteggiamento, a livello di carattere, di voglia di vincere tu abbia avuto delle ottime risposte. Guarda, io ti dico questo, noi nelle ultime partite non abbiamo fatto delle prestazioni diciamo così a 360 gradi come possiamo fare partendo dal presupposto che nell'arco di un campionato è assolutamente, sarebbe tanto bello riuscire a mettere in campo sempre il 100% di tutti quanti. Domenica scorsa abbiamo perso su un campo ostico particolarmente complicato ma avevamo comunque fatto una prestazione. Io in settimana avevo comunque rimarcato che la prestazione era stata fatta perché mi erano già piaciuti laggiù. Poi le circostanze spesso i volentieri fanno analizzare le partite in maniera diversa e quando le circostanze sono a favore magari ti copre un po' anche qualche errore che comunque abbiamo fatti anche oggi. Però dal punto di vista la cosa fondamentale è sempre uscire dal campo con la consapevolezza che uno ha dato tutto. Io guarda lo dicevo prima un tuo collega io ai ragazzi da anni che dico che la gente si ricorda di due cose. La gente intendo addetta ai lavori, tifosi, tutti quanti. Le persone si ricordano o dei risultati e spesso si ricordano soprattutto i risultati a favore. Ho delle emozioni e quando uno trasmette emozione forse è più importante che il risultato perché l'emozione è un qualcosa che fa pensare, che fa riflettere, che dà tanto. Oggi i ragazzi mi hanno dato tante emozioni, hanno giocato una partita magari con qualche contenuto tecnico un pochino inferiore rispetto a determinate altre volte ma con tantissimo cuore, tantissima testa, tantissima volontà e quindi non posso fare altro che fare i complimenti ai ragazzi. Vengo anche alla seconda parte di partita che è stata la vera battaglia perché avete dovuto giocare in nove, sei stato espulso anche tu per proteste, soprattutto la prima delle due espulsioni, quella di Pernice, molto molto discutibile. Sicuramente pensando alla partita domenica, queste sono espulsioni di domenica prossima, sono due espulsioni pesanti. Dall'altra parte c'è stata appunto la dimostrazione di grande carattere, con il 3-0 che tra l'altro è stata un po' la ciliegina sulla torta sotto questo punto di vista. Giocatori come Ciro, come Samu, che oltretutto ci tengo anche a ricordarlo, Samu si era fatto male agli inizi di dicembre dell'anno scorso e pressoché un anno che non è sceso in campo e oggi fin tanto che è stato in campo ha fatto una partita esemplare dal punto di vista della concentrazione fisico, dal punto di vista del tempo delle giocate, quindi gli faccio i complimenti. non sono giocatori importanti, io lo so che soprattutto nel pacchetto difensivo avevo tante alternative. Domenica andiamo ad Acqui, andiamo su un campo bellissimo, bellissimo perché sono quei campi che trasmettono tanto, ci penseremo in settimana ma chiunque verrà chiamato in causa sono certo che darà il 101%. Anche perché nell'arco di un'annata le partite o determinate circostanze fanno bene, nel senso che una partita come quella di oggi oltre che dal punto di vista del punteggio, della classifica fa bene al morale, fa bene alla testa, fa bene al gruppo, fa bene all'ambiente, fa bene per il motivo che ti ho detto prima, perché ha trasmesso qualcosa e quindi in settimana faremo i conti, faremo i nostri allenamenti, prepareremo la partita come abbiamo sempre fatto ma io sono sicuro e convinto che andremo a fare una prestazione una prestazione importante, poi come ho detto episodi e risultato lo valuteremo dopo. Non ti faccio la domanda sulla classifica però ti dico mancano ancora due partite dalla fine dell'anno solare e c'è una corsa che si mantiene vivissima e i risultati di oggi dimostrano che sarà un campionato veramente emozionante fino all'ultima giornata probabilmente. Assolutamente sì, io sono convinto che c'era un campionato sul filo del rasoio fino alla fine perché ci sono delle compagini attrezzate che il campionato dell'anno scorso ha insegnato qualcosa ha insegnato che il Pinarolo che non era probabilmente la pretendente principale e con un inizio una prima parte di campionato con tanti problemini il Pinarolo poi ha inanellato un girone di ritorno importante ed è andato a tagliare il traguardo. Quindi tanta acqua sotto i ponti, tante situazioni un campionato che adesso fra due domeniche si interrompe quando si riprende sarà un campionato totalmente diverso, totalmente diverso, bisognerà essere bravissimi a entrare subito in carreggiata squadre che magari sono un po' in difficoltà con due innesti o con la sosta sono capaci a ripartire in maniera totalmente diversa, sarà sicuramente un campionato combattuto fino alla fine e io prevedo che anche qualche altra squadra poco per volta potrà risalire la classifica.